nei primi secoli dell'alto medioevo il cristianesimo grazie all'azione dei vescovi e alla diffusione del monachesimo diventò la religione d'europa la chiesa in particolare cominciò ad assumere quella rilevanza politica e culturale che sarà un tratto distintivo dell'europa medievale per quali ragioni vediamolo insieme innanzitutto la religione cristiana in un'epoca in cui il mondo antico lentamente si dissolveva per dar vita a realtà politiche e sociali nuove divenne un punto di riferimento saldo e un importante fattore di coesione in occidente sin dal quinto secolo la chiesa cominciò gradualmente a riempire il vuoto di potere lasciato dall'imperatore e dalla classe dirigente ai grandi funzionari romani spesso subentrarono i vescovi che svolgevano anche incarichi politici di controllo e di governo del territorio in secondo luogo venuta meno l'autorità dell'imperatore la chiesa svolse un importante ruolo di mediazione con i nuovi dominatori germanici garantendo la pace e il rispetto delle popolazioni sottomesse e opponendosi con la propria autorevolezza alle maggiori ingiustizie infine il prestigio e il potere della chiesa in occidente crebbero parallelamente all'affermazione della figura del vescovo di roma il quale soprattutto dopo il trasferimento della capitale dell'impero a costantinopoli nel quarto secolo aveva sempre goduto di una dignità superiore che col tempo si era rafforzata anche grazie alle donazioni dello stesso costantino nel quarto secolo e nei secoli successivi di persone abbienti che si convertivano al cristianesimo si trattava soprattutto di beni immobili terreni ed edifici che costituirono il primo importante nucleo del cosiddetto patrimonio di san pietro il futuro stato della chiesa iniziamo 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 iniziamo